ciao a tutti io sono claudio vengo da monza e mi trovo in una clinica in moldavia odontotecnica per risolvere un problema che ho da qualche da diversi anni e in italia avevo provato a sistemare i denti molari praticamente quasi tutti i molari avevo speso una cifra non indifferente una ventina d'anni fa nel 90 più o meno 90 91 ma non avevo risolto i miei problemi anzi ho trascurato trascurato finché che mi sono trovato al punto di dover fare un lavoro totale mi sono rivolto a diversi centri in italia milano milano e monza e qualcuno anche straniero e ho trovato dei prezzi veramente assurdi che andavano al di là delle mie possibilità e quando quasi mi stavo arrendendo a fare un lavoro un altro lavoro approssimativo per caso ho trovato la clinica sos turismo dentale che si trova a kishinao in moldavia niente ho indagato un attimino visto i prezzi sono rimasto un pochino perplesso perché la differenza era notevole dai preventivi che mi ero fatto fare in italia ho voluto provare lo stesso ho indagato un attimino dopodiché ho telefonato e ho preso un appuntamento per venire qui con l'accordo che se avrei trovato di mio gradimento la clinica che se secondo me la clinica era idonea fare questo tipo di lavori mi sarei fermato altrimenti sarei tornato a casa con la mia bocca rovinata loro hanno accettato abbiamo fatto questo accordo sono venuto e mi hanno fatto visitare la clinica tutta dalle sale operatorie ai laboratori dove fanno le le protesi perché fanno tutto loro io ho trovato la clinica molto pulita molto igienizzata tutti i locali che ho visitato perfettamente puliti e igienizzati disinfettati igienizzati il personale che ho conosciuto il dottor mi sfugge il nome va 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 di dottor vadi molto gentile simpatico e anche tutta l'equip molto simpatica non ho mai non avevo mai avuto in quel periodo non ho mai avuto occasione di conoscere il dottor palmas che ho conosciuto poi successivamente niente ho fatto il primo lavoro mi sono trovato bene con loro molto professionali molto bravi e professionali la loro tutta l'equip dagli assistenti ai traduttori tutti molto molto socievoli molto educati mi sono sentito molto bene molto a mio agio ho fatto il primo step è andato bene sono tornato a casa dopo sei mesi sono ritornato ho fatto il secondo secondo step mi hanno montato la protesi superiore inferiore abitata con sette impianti niente è passato dalla definitiva adesso sono passati 14 mesi e va tutto bene sono qui non perché ho problemi alle mie protesi ma perché mia moglie si è sentita un po invidiosa dei miei nuovi denti ha voluto anche lei ricorrere a questa clinica mi sta facendo dei segnacci ma non importa niente se posso dare un consiglio anche se avete bisogno provate venite a visitare la clinica e vedrete che non ve ne pentirete ciao ciao